La Sardegna compatta dice no alle scorie. I politici regionali cittadini chiedono che si rispetti la scelta di Sardi espressa nel referendum del 2011, previsto per il 19 aprile No Nuclear Day. La regione intende salvaguardare i posti di lavoro della Saremar, così l'assessore regionale dei trasporti Massimo Dejana nell'incontro con i sindacati, a seguito della manifestazione di ieri a Cagliari contro la privatizzazione della Saremar. No al disegno di legge e concorrenza nasce la protesta di Notai contro la proposta di legge del governo, che vedrebbe coinvolti nella stipula dei contratti di compravendita anche avvocati e banche. Movimento Artigiani del Sulcis dice il comparto edile al collasso e chiede un tavolo tecnico con la regione Lanci, rilancio del piano casa, accesso al credito e piano straordinario dei lavori pubblici, i temi sui quali il Movimento chiede interventi efficaci. Ben ritrovati nel telegiornale di Canale 40, l'avete sentito nei titoli, parliamo di scorie radioattive, ancora segreto l'elenco dei siti doni. La Sardegna intanto si mobilita per dire no al deposito di scorie nell'isola e il 19 aprile è previsto il No Nuclear Day. L'elenco dei siti dove depositare le scorie radioattive è ancora segreto, sarà il governo ad annunciare quali aree del territorio nazionale ospiteranno le scorie nucleari. Ci sono forti preoccupazioni che qualche sito venga individuato in Sardegna e nell'isola si sta creando una vera e propria opposizione, non solo da parte dei cittadini ma anche della politica regionale, affinché sia rispettata la scelta dei Sardi emersa nel referendum del maggio 2011 di non voler nel proprio territorio installazioni di depositi e stoccaggio di scorie nucleari. Tutto il centro-sinistra ha presentato una mozione che impegna Pigliaru a far rispettare il voto referendario dei Sardi del 2011, uno deciso al nucleare evitando che la Sardegna venga individuata quale sede idonea ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti. Siamo pronti a ribellarci ad un'altra servitù come quella sulle scorie nucleari, ha detto il presidente della regione Sardegna, intervenendo ieri in Consiglio. E alcuni giorni fa l'assessore dell'ambiente Donatela Spano ha inviato una lettera ai ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente per manifestare la ferma opposizione della regione Sardegna all'ipotesi di localizzare nel nostro territorio la sede di deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Intanto prosegue la manifestazione di protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale organizzata dal coordinamento Nonucle, che raccoglie decine di associazioni. Il 19 aprile, su proposta del leader indipendentista Bustiano Compostu, è previsto il Nonucle Day. La regione intende salvaguardare i posti di lavoro della Sarema, reinsedendo nei capitolati di gara sulla continuità territoriale per le isole minori una forte premialità a favore di chi assorbirà il numero maggiore di personale. E' quanto affermato ieri dall'assessore regionale ai trasporti Massimo Dayana a seguito della protesta che c'è stata a Cagliari contro la privatizzazione della società marittima. Il servizio. La regione intende salvaguardare i posti di lavoro della Sarema, reinserendo nei capitolati di gara sulla continuità territoriale per le isole minori, una forte premialità a favore di chi assorbirà il numero maggiore di personale. Lo ha ribadito l'assessore dei trasporti Massimo Dayana ieri pomeriggio nel corso dell'incontro con i rappresentanti sindacali della società regionale marittima. La presidenza segue ogni dettaglio della vicenda ed è in costante contatto e coordinamento con l'assessore Dayana, ha aggiunto il capo di gabinetto della presidenza Filippo Spanu, presente al tavolo convocato nella sere dell'assessorato. La tipologia e le necessità del servizio di trasporto, che dovranno essere contenuti nel bando pubblico sulla continuità interna, saranno individuati attraverso un confronto con le comunità locali, ha spiegato ancora l'assessore, superando così le diverse carenze contenute nell'attuale contratto. Inoltre, la Giunta ha approvato una delibera che consentirà l'individuazione, attraverso una selezione, di un advisor internazionale, al quale sarà richiesta una consulenza sull'elaborazione del testo della gara. Tenuto conto che il Consiglio e la Regione si sono fatti carico di garantire le risorse per proseguire l'attività della Sare Marsino alla fine del 2015 e che, se giunti al concordato preventivo liquidatorio, abbiamo ancora il tempo necessario per trovare una via d'uscita ordinata, ha concluso l'assessore, cercando un soggetto credibile che possa partecipare con buone prospettive a una competizione aperta, trasparente e non discriminatoria per la gestione dei collegamenti via mare con le isole minori. Il notaio, prima che un libero professionista, è un pubblico ufficiale e, partendo da questo assunto, nasce la protesta di notai contro il disegno di legge denominato concorrenza, proposto dal governo Renzi. Sentiamo i particolari in questo servizio di Francesca Rius. Il notaio è, prima che un libero professionista, un pubblico ufficiale. Partendo da questo assunto, nasce la protesta dei notai contro il disegno di legge denominato concorrenza, proposto dal governo Renzi. La materia è ostica, ma volendo tradurre in spiccioli, succede che il suddetto disegno di legge prevede la possibilità per l'utente di non rivolgersi più solo al notaio per la stipula e l'autenticazione di un atto di compravendita relativamente a tutto ciò che non è abitativo, ma anche a un avvocato che, lavorando con e per le banche, provvede ad espletare la pratica di compravendita. Fin qui tutto sembrerebbe molto più che democratico, se non fosse che, secondo quanto sostenuto dagli stessi notai, non solo in questo modo lo Stato fa concorrenza a se stesso, ma i rischi per l'utente sarebbero molteplici e difficilmente riconoscibili. In realtà si parla di disegno di legge sulla concorrenza e dovrebbe riguardare i notai che in realtà con la concorrenza non dovrebbero avere nulla a che fare. Noi siamo un corpo dello Stato, siamo prima di tutto pubblici ufficiali, diamo pubblica fede, esigiamo le imposte per conto dello Stato e non si capisce perché lo Stato parli di una funzione sua propria in termini di concorrenza. Ecco, volendo entrare più nello specifico, Dottor Mulas, che cosa possiamo dire per spiegare a chi ci ascolta anche che cosa potrebbe succedere se questo disegno di legge dovesse poi trasformarsi effettivamente in legge. Il lavoro che tutti sappiamo oggi fa il notaio, soprattutto per quanto riguarda i contratti di compravendita, chi potrebbe prenderli in carico? Formalmente, per una parte limitata, gli avvocati. Nel senso che gli avvocati potrebbero limitarsi, potrebbero essere investiti del compito di autenticare le sottoscrizioni. Solo e soltanto quello, cioè non c'è nessun obbligo per il cittadino di rivolgersi all'avvocato anche per farsi scrivere l'atto. Il cittadino in teoria si scrive il suo atto, dopodiché lo porta dall'avvocato, l'avvocato si limita a controllare che la firma di tizio sia apposta effettivamente da tizio, che l'atto riguardi il non abitativo di quei determinati valori e basta. Non è obbligato a fare null'altro. Se noi consentiamo che il cliente si muova con un fai da te, per cui vada dall'avvocato con il suo fogliettino di carta a farsi autenticare la firma e poi vada a inserire questo atto nei registri immobiliari, non sapremo mai se questi atti sono validi, se ci sono dietro dei problemi di abusivismo edilizio, di riciclaggio e così via. Chi controllerà questi atti se dovesse andare in porto questo progetto? In prima battuta nessuno. Poi, dopo qualche anno, è possibile che l'acquirente decida di far controllare il suo atto e scoprire poi che l'atto è pieno di vizi. La domanda a questo punto è quella dei notai è una battaglia esclusivamente di autotutela o si pensa anche alla salvaguardia del diritto dei cittadini a ricevere una prestazione professionale sicura? Allora, la tutela è prima di tutto quella dell'integrità, della sicurezza e dei traffici giuridici. È ovvio che poi ciascuna categoria opera anche in parte per conto proprio, ma quello che conta è il fatto che noi abbiamo dei registri immobiliari che sono aggiornati con gli atti dei notai. I notai non nascono a notai, i notai diventano tali a seguito di un concorso pubblico durissimo, uno che è universalmente riconosciuto come uno dei più difficili d'Europa. Allora, questi atti dei notai, che tra l'altro sono estremamente complicati perché la legge è estremamente complicata e variegata da applicare, sono atti che servono ad aggiornare la situazione di proprietà degli immobili e sono atti sicuri, non solo tra l'altro perché sono stati formati da professionisti appositamente creati e con una specializzazione molto approfondita, ma tra l'altro vengono anche controllati a posteriori dal Ministero della Giustizia, atto per atto, riga per riga, parola per parola. Dottor Mulas, per chiudere, che cosa rispondete a chi vi accusa di non volere concorrenza se c'è forse la possibilità di risparmiare nella stipula dei contratti? A parte che non ci sarà risparmio perché noi riassumiamo la posizione dell'acquirente, la posizione del venditore e la posizione dello Stato e quindi comunque non ci sarà bisogno, con questo sistema ci dovrebbe essere bisogno di un avvocato per il venditore, uno per l'acquirente e in più si pagherà l'assicurazione e noi a quel punto saremo sicuramente molto più economici e sicuri. Ma c'è un discorso diverso. Allora, è vero che gli avvocati e i notai sono entrambi laureati in giurisprudenza, ma io vorrei sapere il paziente che ha un problema a un occhio, probabilmente non andrà dall'ortopedico, anche se gli chiede una parcella più bassa. Il comparto edile in Sardegna è al collasso. Il Movimento Artigiani del Sulcis Iglesiente chiede l'intervento della Regione e del Lanci per trovare soluzioni ai tanti problemi che impediscono lo sviluppo del settore. Sentiamo. Sensibilizzare gli amministratori locali e regionali per far fronte alla tragica situazione in cui versa il comparto edile in Sardegna. Il Movimento Artigiani del Sulcis Iglesiente chiede l'istituzione di un tavolo tecnico con la Regione e il Lanci per discutere sull'adeguamento dei piani urbanistici, il rilancio del piano casa, piano straordinario dei lavori pubblici, certezza del diritto e minore burocrazia che fino ad oggi ha impedito l'avvio delle opere già finanziate e immediatamente cantierabili, piano straordinario di recupero dei volumi esistenti oltre ad una programmazione dei fondi comunitari attraverso le istituzioni di uffici per i fondi strutturali nei comuni. Ma anche la soluzione dei problemi legati all'accesso al credito in quanto costituisce all'interno dei sistemi produttivi europei un elemento cruciale per la sopravvivenza e lo sviluppo delle realtà imprenditoriali di piccole dimensioni. Per discutere di tutte queste problematiche, il Movimento Artigiani ha programmato per il 10 aprile alle 10 un incontro nell'agriturismo agrifoglio a San Giovanni Suerciu. E parliamo di Abanoa, sono quattro i centri del Sulcis che nel corso del mese saranno interessati dalla campagna Consumi Certi con la lettura di tutti i contatori tramite palmari elettronici e fotografia. Verranno infatti certificate le letture a Carbonia, Calazetta, Masainas e Musei. In questo modo si può contare ugualmente su fatture periodiche calcolate su consumi effettivi, fa sapere Abanoa e si evitano esosi con guagli relativi a lunghi periodi di consumo non registrato. Chi non dovesse trovarsi in casa al momento del passaggio degli operatori può inviare l'autolettura all'indirizzo mail autolettura chiocciola Abanoa oppure segnalarlo direttamente agli uffici. Il 9 aprile alle 16 nell'aula del Palazzo di Piazza Municipio ad Iglesias è convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale per esaminare diversi punti all'ordine del giorno. Una mozione presentata dalla lista Casa Iglesias sulla requisizione dei loculi cimiteriali e approvazione del regolamento sugli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. E poi c'è la proposta dell'istituzione della Commissione Consigliare di Indagine sul ciclo dei rifiuti del Comune di Iglesias. L'artista Namsa Sieglecchi è protagonista del decimo appuntamento che la Scuola Civica d'Arte Contemporanea dedica mensilmente agli incontri aperti a tutta la popolazione. Per questa occasione l'artista, oltre a presentare pubblicamente il suo lavoro, sarebbe impegnato in un workshop con gli studenti del corso 2.0 avanzato della Scuola sulla lavorazione della pianta del Fico d'India. Il progetto della Scuola Civica d'Arte Contemporanea è stato concepito dagli artisti del collettivo Giuseppe Frau Galleri come una vera e propria opera pubblica e sociale con la missione di cercare di aiutare la comunità a trovare un'alternativa a quel labirinto fatto di muri di depressione collettiva e percorsi autoreferenziali in cui è stata rinchiusa. Grazie all'attivazione dei tre corsi, demo, base e avanzato, agli incontri pubblici, alle serie di residenze, la città di Iglesias non solo ha l'occasione di incontrare e conoscere alcuni dei principali protagonisti della scena artistica contemporanea, ma anche quello di proporsi come un centro di eccellenza per la ricerca artistica. Namsal, l'artista, incontra il pubblico domani, venerdì, 3 aprile alle 16.30 nella Scuola Civica, che ha sede nel reto della Biblioteca Comunale. E oggi l'associazione Amici della Vita Onlus, il Comune di Iglesias e l'Ordine dei Medici della provincia di Cagliari aderiscono all'ottava giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo promossa dall'ONU. Per l'evento, monumenti, edifici pubblici e abitazioni private del mondo intero saranno illuminati di blu per illuminare l'autismo. L'associazione Autismo Europa, che quest'anno si impegna per l'integrazione sociale, proponendo il suo logo 2015, Stop Discrimination, invita la riflessione non solo per l'autismo, ma per tutte le disabilità e fragilità umane. L'appuntamento è alle 17.00 presso la Caserma Trieste di Iglesias. E ricordiamo che proprio per aderire a questa importante giornata, il Comune di Carbonia illuminerà di blu. Fino a domani, 3 aprile, lo specchio d'acqua antistante la scultura di Gio Pomodoro in Piazza Roma. E con questo termina il nostro giornale. Adesso il meteo e poi il Tg Lingua Sarda, Noas in Curzu. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Questo venerdì 3 aprile nel Sulcis sarà caratterizzato da qualche nube sparsa. Vento da nord-ovest con intensità di 15 km orari. Raffiche fino a 35 km orari. Temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi e massime comprese tra 15 e 20 gradi. Raffiche fino a 35 km orari.